Quando risi così di lui, lo fece anche per paura, non era come gli altri. Perdio l'impudenza di presentarsi qui, con il suo amante accanto. Non sei pazzo! Non sono pazzo! Potrebbe essere pericoloso per te. Smetti il stronzo! Noi dovete implorarmi questo dal Papa che può distaccarmi da lì e lasciarmela vivere tutta questa mia povera vita da cui sono escluso. Non si può avere sempre 26 anni! Com'è che poteste commettere quella tale azione? Passa con questa commetta, sei guarito, lo sappiamo! Come guarito? Ha confessato lui! Da molto tempo! Ma si, recitava per ridere le nostre spalle! Re, re, pagaci il caffè! Perché ti spezzo quell'altro prezzo, eh! Frini, dove vai? Sei ancora innamorato? Grazie! 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 Grazie!